Beviamo qualcosa. Tre birre. Non volete qualcosa di serio? Che sarebbe? Cognac francese. Potrebbe berne un po' con me. Perché siete qui, comandante? Per proteggere la gente da chi ha sottratto il potere a un primo ministro legittimamente eletto. E voi invece? Per proteggere gli interessi di chi comanda. E poi Parigi è freddo in questo periodo. A Parigi. A Parigi. Questa gente che siete qui per proteggere, sicuri che vi voglia? Ho i miei dubbi. Ma ho anche i miei ordini. E segue sempre gli ordini? Sono un soldato. È così che funziona. Ho studiato l'esercito irlandese per vedere quante guerre avesse fatto. Sa che ho scoperto? Nessuna. Vale anche per lei, comandante. Non è mai stato in battaglia. Io non direi. Sono sposato da dieci anni. Avete un piano? Solo la speranza che non ci sia bisogno di noi. Nessun piano sopravvive al contatto con il nemico. È un vecchio detto di Rommel. Ma è piaciuto Rommel. Sono pochi i francesi a cui piacciono i tedeschi. In due settimane conquistarono il vostro paese. Sta facendo lavorare troppo i suoi uomini. Tutto quel gran scavare. Nessuno qui ha mai sentito il bisogno di scavare trincee. Grazie per la visita, comandante. Grazie a lei per i cognac. Quei mercenari sono in gamba. Chissà perché si trovano qui... Non è 1972. Grazie a lei. Mi intero. Grazie a tutti.